buongiorno amici buongiorno amiche oggi siamo qui con una bella bella novità questo dongle di ottocast che attualmente è l'ultimo uscito per connettere android auto wireless alla vostra auto senza quindi cavo dovete avere un'automobile che abbia android auto ma via cavo attraverso questo dongle diventerà wireless ci sono tanti di questi dongle uno è questo qua che utilizzo io che abbiamo chiamato fulmine nel gruppo telegram che vi metterò in descrizione oltre a questo e avevamo la versione non pro di 8 cast di questo dongle questa però sostanzialmente ha avuto un upgrade del upgrade hardware e quindi è sicuramente da preferire a quella precedente vi dicevo ci sono molti di questi dongle ad esempio carlin kit ha fatto il dongle che si chiama a2a che vuol dire android to android quindi nella vostra macchina verrà visto il vostro smartphone come fosse collegato via cavo quindi non utilizzano in nessun modo il modulo carplay ma sono android to android quindi sia questo qua di 8 cast sia questo qua sia carlin kit a2a sia ad esempio il motorola ma1 rendono wireless il vostro android auto cosa c'è di buono in questo dongle direi tutto intanto ve lo faccio vedere non è non è molto grande è fatto bene non qui c'è un pulsante per switchare se dovete cambiare lo smartphone collegato vedete la colorazione molto figa di notte si apprezza ancora di più quando l'accendete è rossa quando poi prende e si collega al cellulare diventa questo blu molto molto bello un effetto 3d per esempio anche ai miei figli piace un casino questa lucetta di notte vi dicevo perché comprare lui e ad esempio non comprare carlin kit a2a io ho testato anche carlin kit a2a ho testato questo qua da mesi e sinceramente con lui non ho avuto nessun tipo di problema il collegamento è sempre veloce è sempre stabile e quindi funziona perfettamente come funziona perfettamente anche lui quindi detto tra noi comprate tra i due quello che costa meno 8 cast probabilmente riceverà più aggiornamenti perché è una ditta molto molto famosa lui è anche dotato di un'applicazione adesso non mi ricordo bene il nome ve la metterò in mi sembra 8 pilot ve la metterò in descrizione però sostanzialmente ancora questa applicazione non serve a una mazza perché c'è il manuale ma ad esempio l'aggiornamento firmware vi riporta la procedura che è fatta indicando un indirizzo ip quindi diciamo che l'applicazione si bravi che l'hanno fatta ma per adesso non è molto performante mentre ad esempio dei dongle come a wireless hanno un'applicazione dove si può settare ogni minimo dettaglio del dongle adesso previsioni meteo domani a roma a roma domani ci sarà pioggia con una massima di 17 gradi e una minima di 9 l'assistente vocale funziona è veloce la risposta del touch la risposta un po in generale la trovo la trovo scattante ma come era scattante anche con lui sostanzialmente su android auto non mi vado a soffermare perché non c'è bisogno nel cruscotto vedo la riproduzione di spotify con le copertine cosa che non avviene se collegate un box del tipo carlink kit 4 o 8 cast o 2x i quali per funzionare utilizzano il modulo carplay questi invece che sono android to android non perdono nessuna funzione compresa non perdono i comandi delle telefonate bluetooth della macchina quindi quando vedete android to android accendetevi la campanella vuol dire che sono i migliori perché è come se il vostro telefono fosse collegato via cavo chiaramente un telefono android io direi che abbiamo detto quasi tutto quindi compratelo tranquillamente è un prodotto fatto bene veloce senza bug non vedo nessuna controindicazione se lo comprate sul sito della 8 cast ve lo metto in descrizione lo pagate un po meno che su amazon italia anzi molto meno quindi probabilmente potrebbe essere la soluzione la soluzione migliore direi che ci siamo detti tutto se avete delle domande se avete dei dubbi mettetemeli pure in descrizione saluto pasqui che ci ospita nel suo bellissimo canale e ci vediamo presto saluto 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 Grazie a tutti